E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video con una nuova ospite, mia mamma, anzi la mia mamma Oggi andremo a provare un articolo di Temu e a recensirlo per vedere se effettivamente funziona E cosa andremo a provare? Come si chiama? iRap Tarocca Nel senso che non è iRap originale ma è una copia che viene venduta solo su Temu tecnicamente L'abbiamo pagata 5 euro quindi pochissimo Poi abbiamo preso anche un pod all'arancia tipo Adesso vi spieghiamo bene come funziona questa iRap Tarocca se non avete mai sentito parlare Ma prima di tutto presentati di qualcosa, non si può mica farlo Ma allora io faccio due preverse no? Ah due preverse La prima premessa è che mi farai assaggiare e io darò la mia opinione Ma è la mia opinione Tuo opinione? Gli altri devono provare Cioè non è che la mia opinione diventa... Certo Ecco quindi quella è la prima premessa Non me l'aspettavo però sì La seconda premessa è che mi tocca fare ste cose perché mio figlio insiste Però per il lavoro dei propri figli si fa questo Sì esatto esatto anche perché dobbiamo informare i nostri spettatori che io ho fatto bene sia in inglese che in fisica Quindi ovviamente è un premio bisogna dare Eh sì sì però fino a un certo punto io direi che sarebbe il caso magari di fare anche un altro video Un altro video e far vedere per sempre qual è lo strumento che suono Perché se no sei bravo Sì sì Devi dimostrarlo Allora facciamo così Far vedere al pubblico Se volete un video in cui io suono la tromba perché il mio strumento è la tromba Scrivetelo nei commenti Se no vi dispiace mamma ma non si può Non dovrei svelare subito Eh lo so Ma voglio vedere se sono interessati come dici tu Ma bando alle cianci Ciancia alle bande Non perdiamoci in chiacchiere Andiamo a vedere che cos'è questa iwrap tarocca Questa è l'iwrap tarocca Abbiamo riempito la borraccia Comunque per essere una borraccia così già esteticamente Cioè per 5 euro io la comprerei Tu? È bella Prima impressione diciamo dell'articolo C'è staccio È carino Allora questo è il pod che metteremo all'arancia Poi tipo alziamo e proviamo Allora prima impressione devo dire Allora facciamo così Prima assaggiamo tutti e poi diamo le opinioni Se no condizioniamo gli altri L'igiene prima di tutto Sicuramente Ah sì bello Ci sta Allora facciamo le opinioni a partire da Danny Dai No ci sta si sente il sapore Cosa è arancia? Arancia sì Si sente il sapore dell'arancia E basta Tu berresti questo al posto di un succo d'arancia? No Ok Tu? Cosa dire? Cosa dici? Sa di arancia la caramella Sa di una caramella l'arancia Sì però è accentuato si sente Pensavo fosse smalmitto io E tu Tu berresti questo al posto di un succo d'arancia? Perché io preferisco l'acqua Sì è da contare che questa è acqua Noi stiamo bevendo acqua Perché tramite Allora funziona così Noi beviamo acqua ma tramite il nostro flusso retronasale Come quando noi per esempio tappiamo il naso per mangiare cose che non ci piacciono Non sentiamo i sapori Stessa cosa in questo caso Con il nostro retronasale E sentiamo il sapore tramite l'odore Tramite l'odore dell'arancia Che viene tipo tramite delle vie aeree qua Viene trasmesso Sì una roba del genere Viene trasmesso e si riesce a sentire il sapore senza che Cioè è acqua Quindi è zero calorie, zero zuccheri Io pensavo un po' meglio in realtà Nel senso che pensavo fosse molto più accentuato E sentire proprio tipo se metto il gusto coca cola Sentire il gusto proprio della coca cola come se bevo una coca cola Costa 5 euro se volete provarlo provatelo Se no tanto per 5 euro non credo vi cambi la vita Se volete provare un'iwrap più economica Vi consiglio comunque di prendere questa a 5 euro Perché il suo lavoro lo fa Se no chiedete all'amico che ha l'iwrap e la mettete a lui E poi giudicate voi La nostra recensione finisce qua Abbiamo detto tutto su questo prodotto Porteremo altri prodotti di tempo Quindi consigliateci qui sotto cosa provare Cosicché voi potete comprare le cose Una volta che noi abbiamo testato Se sono buone o meno Sfruttateci in questa maniera Perché secondo me potrebbe essere utile Rimaniamo su gadget piccoli Così non spendiamo tanto Attivate la campanella E iscrivetevi al canale Che il 62% di voi non è iscritto A 40 like facciamo una challenge di canto Ci sta Commentate il video E arriviamo a 40 like appunto Condividete a tutti il video Che così tutti sanno Che questa è raptarocca Costa 5 euro Magari la comprano Eccetera eccetera Esatto E ci fate sapere anche voi con me Insomma Bene Non c'è nient'altro da dire E ci vediamo a un prossimo video Ciao 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 Ciao